Il 2022 dell'amministrazione regionale delle Marche si chiude con l'approvazione di una legge, quella relativa ai parchi. In questo caso oggi ci concentriamo sul parco del San Bartolo, proprio perché su questo parco questa legge è stata anticipata da diverse contestazioni, soprattutto da parte del Comune di Pesaro e anche da alcuni consiglieri regionali. Legge che invece ha Nicola Baiocchi come primo firmatario che ha difeso questo emendamento per ragioni che andiamo ad ascoltare. Prima di tutto è una legge che riguarda tutti i tre parchi regionali, si cercano di uniformare il tema dei parchi regionali dando una rappresentanza all'interno dei parchi di tre consiglieri per ogni parco, il parco regionale del Conero, del San Bartolo e della Gola della Rossa, anche se nel parco della Gola Rossa ci sono alcune tipologie differenti che in questo caso non ci interessano, ma serve soltanto a dare una maggior uniformità di sistema all'interno della regione e dare un maggior peso politico di indirizzo alla regione Marche. Mi sembra al minimo perché la regione Marche contribuisce al 100% dei contributi per il funzionamento del parco, come il pagamento di stipendi, per la funzionalità del parco in generale. Quindi mi pare opportuno che la regione debba dire la sua, debba avere una funzione di indirizzo e di controllo all'interno del parco. Consiglieri che passano da 5 a 7 con integrazioni appunto dalla regione Marche, ma integrazioni senza esclusioni? Assolutamente sì, è solamente escluso il rappresentante della provincia, rimane il comune di Peso, rimane il comune di Gabiccia, rimane gli agricoltori, il rappresentante degli agricoltori, gli ambientalisti, quindi inoltre c'è anche il comitato del parco che raggruppa tutti. Quindi non è l'esclusione della provincia, ma mi pare giusto e opportuno ricordare che nella passata legislatura fu proprio il centro-sinistra, in commissione dove il presidente allora era Biancani che tolse il rappresentante della provincia per darlo alle organizzazioni rappresentative nell'ambito del turismo. Questa legge non è mai stata impugnata. Al di là dei componenti che cosa ritiene che porti di valore aggiunto questa legge? Porterà sicuramente delle competenze, un valore importante di persone che avranno la funzione soprattutto di collaborare con i soggetti già esistenti che conoscono meno del parco e di renderlo ancora più fruibile e che sia accessibile a tutti, fruibile e non vengano fatte distinzioni all'interno del parco tra le varie frazioni. Questa mi sembra una cosa molto importante. Il parco è di tutti, parte da Gabiccia e arriva fino a Pesaro, quindi questo è l'elemento imprescindibile di questa riforma. Questa è l'approvazione e poi ci saranno ora dei passi ulteriori nel 2023. Quali saranno i primi? Sicuramente adesso verrà nominato il comitato direttivo e successivamente poi il presidente per rendere operativo quanto prima questa nuova legge che è fatta e è nell'interesse di tutti. Mi dispiace sinceramente aver assistito a una settimana di attacchi continui su questa legge e non ce n'è assolutamente nessun motivo perché non c'è assolutamente nessun poltronificio perché gli incarichi sono incarichi gratuiti, quindi mi pare abbastanza pretestuoso. Il PD è una strana concezione della democrazia, nel senso che uno vince le elezioni, anzi le stravince e non può legittimamente pensare di modificare una legge e andare in un indirizzo politico su una situazione che ritiene da dover modificare. Mi dispiace, si parla troppo spesso, o meno loro parlano troppo spesso di democrazia, di costituzioni, di diritti e non lasciano la libertà ad un'amministrazione che ha vinto le elezioni e quindi legittimamente può fare delle modifiche ad una legge di andare verso una direzione molto chiara che è quella di riuscire a modificare la governance dei parchi per dare maggiore efficienza. Mi dispiace perché la consigliera Vitri invece magari di andare a dormire alle 4 di mattina, io sono rimasto fino alle 6, poteva tranquillamente rimanere in aula e dire la sua in ordine a questa legge, non solamente sui giornali ma nel ruolo istituzionale al quale si discutono le leggi, che non sono i giornali ma è l'aula del Consiglio dell'Assemblea Legislativa.